Allora, vedi te lo schermo? Allora, quindi ripartiamo da capo e 4 e 5 velocemente, cavallo in F3, cavallo in C6, alfiere in C4 e gioco piano. Quello gioca H6, noi che facciamo Bea? Bravissima. Allocchiamo. Quindi lui al posto che giocare cavallo in F6 continua con lo sviluppo alfiere in C5, noi andiamo avanti con una mossa che te conosci benissimo, e quella tematica C3 che ci permetterà di spingere al centro. Oltretutto apre anche questa via di fuga per questo alfiere. Lui a questo punto 99% gioca cavallo in F6, che prima o poi lo dovrà giocare. Di nuovo, anche se D3 è comunque una mossa buona, perché si entra in una linea principale del gioco piano con un tempo di vantaggio, che lui ha giocato questa inutile H6, ma di nuovo non serve proteggere il pedone in E4, possiamo spingere subito in D4, attacca l'alfiere, che quindi se si sposta vinciamo il pedone, quindi lui di sicuro catturerà lui, e per D4, C per D4, ora lui deve soltanto riportarlo indietro, perché non essendoci più il re in E1, non ci dà neanche fastidio con l'alfiere in B4, perché non ha nessun bersaglio. Se lui lo porta in B4, che non ci vuol far mettere questa torre in E1, noi lo scacciamo subito con A3, quindi lui ritornerà presumibilmente indietro in B6, e di nuovo c'è questa spinta bellissima al centro E5. Se torna indietro in H7, che è una tra le più giocate, quindi già è messo male, ora non che abbia perso la partita, ma uno che all'ottava mossa, di cui 4 o 5, ne sanno anche i bambini, si trova in questa condizione, già non è che sia messo benissimo. Allora, se lui fa questo cavallo in H7, tu come continueresti? Allora, io sinceramente spingerei anche con l'altro pedone. Ecco il discorso. Si spinge in D5, pensa, se lui torna col cavallo indietro in E7, tu che cosa faresti ora? Allora, avanza ancora il pedone. Brava, avanzi ancora? Perché quando lui ha catturato, ora qui addirittura lui non cattura, perché se cattura, noi ricatturando, gli facciamo spostare il cavallo, si apre questa cosa. Quindi lui, vedi, in questa posizione al computer gli piacerebbe muovere il cavallo, e quindi lui è già messo malissimo, e poi noi si continua tranquillamente con lo sviluppo, e siamo già messi bene. se lui, invece, con D5, se lui vuole spostare il cavallo in A5 per darci fastidio a questo alfiere, dopo cavallo in A5, noi naturalmente non vogliamo, ora in questo caso si perderebbe proprio l'alfiere pieno, ma noi in generale non vogliamo perdere la coppia degli alfieri senza nessun compenso in partite che si stanno per aprire, perché qui prima o poi si apre tutto, basta spostarlo in D3, e se lui gioca a Rocco Corto come gioca nel 90% dei casi, c'è il solito problema che aveva prima, ma dalla parte opposta della scacchiera. C'ha un pezzo sul bordo, che è il cavallo, B4 vince il cavallo, vedi? Qual è il problema di fare queste mosse brutte, poi perché con questi cavalli che vanno sul bordo, alla fine, quando uno ha il vantaggio di spazio, gli ha chiuso queste case per tornare indietro, B4 vince direttamente il cavallo. Quindi anche questa è bellina come cosa. Dopo che noi abbiamo spinto in E5, l'altra possibilità è quando mette il cavallo in mezzo, ma col cavallo in mezzo di nuovo, c'è questa spinta di 5, il cavallo si porta presumibilmente, perché qui se si riporta in A5 addirittura qui perde sicuramente, perché dopo il cavallo in A5 l'alfiere si sposta pure con tempo, c'è di nuovo il discorso di B4, perché qui gli rimane il pezzo nel nostro campo sospeso, quindi probabilmente si porterà in B4, noi lo scacciamo, torna indietro, arriva D6, quindi questa è una buona mossa, che è anche una trappola, che ci dobbiamo ricordare, perché qual è fondamentalmente questa trappola, se lui cattura, che succede? Succede che c'è donna in D5, che è quella forchetta che minaccia matto in 1, e vince quindi il cavallo, se lui dopo D6 non vuole aprire e spinge C6, quindi evita anche questa donna in D5, e noi giochiamo B4, chiude anche una via di uscita a questo cavallo, arrocco corto, donna in D3, il cavallo sotto attacco, cavallo in G5, qui o cavallo o alfiere, ci conviene l'alfiere, alfiere per cavallo, scusami, il pedone ricattura, e di nuovo c'è donna in G6, per questo motivo ci conviene sacrificare l'alfiere sul cavallo, cioè sacrificare, ci conviene cambiare l'alfiere sul cavallo, e non il cavallo sul cavallo, perché poi il cavallo in queste posizioni, ci permette di dare il matto, questo donna in G6 va ricordato sempre, perché quando l'alfiere è in C4, e lui è arroccato, il pedone è inchiodato, non protegge più, e quindi guarda qua che disastro questa posizione, Re in H8, ora attenzione perché il pedone è stato schiodato, quindi potrebbe catturare la donna, ora non è che ti devi ricordare tutto a memoria, io te lo faccio vedere perché sono manovre che poi piano piano, cioè ti rimangano in mente, insomma diventano automatiche, no? Re sotto attacco, cavallo cattura, e per evitare il matto, e qui è inevitabile, l'unica cosa che può evitare il matto per il nero è sacrificare la donna sul cavallo, quindi sicuramente vincente anche questa linea. Salute! Grazie a tutti